Un viaggio nella musica, dal classico al moderno, fino alle tradizioni dei popoli di terre lontane. Sulle rotte del mondo, giovedì 19 settembre 2013, concerto a Trento dell'orchestra Fuori Tempo, inizio alle 20.30 al Teatro Cuminetti. Venerdì 20 settembre, serata di chiusura all'Auditorium Santa Chiara, con la corale Altre Terre, inizio alle 20.30. Ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti. Grazie a tutti.